Eccoci qui siamo arrivati a un avamposto austriaco sopra l'userna e adesso vedremo alcune zone di questo avamposto dove gli italiani attaccarono in maniera imponente stavano quasi riuscendo a sfondare le linee di difensiva austriaca poi non ci riuscirono la guerra si spostò divenne una guerra di posizione e poi si spostò nelle zone più conosciute che quelle del piave eccoci qua ecco qui l'avamposto era il forte campo luserna vedete abbiamo trovato anche giù sotto delle testimonianze dei bambini perché avevo dieci anni che partecipavano alla costruzione di questo forte che adesso andiamo a vedere ci addentriamo ed eccoci qua siamo ci stiamo addentrando nei resti di questo composto vedete feritoie lì c'era il versante italiano ecco qua vedete è spettacolare questi ingressi erano fatte appositamente tortuosi per difendersi in caso di sfondamento da parte del nemico e allora stiamo rientrando all'userna però guardate che meraviglia vi faccio un 360 gradi bellissimo